Una ricerca che parte dalla filosofia e dalla mistica, passando per la semiotica e la cultura popolare, per raccontare, da un nuovo punto di vista, l'opera di Piero Manzoni, l'artista italiano che forse più di ogni altro ha seminato suggestioni per il futuro. Il saggista Guido Andrea Pautasso presenta per la lecta il libro Piero Manzoni di Vorare l'arte, opera che, a maggior ragione nel periodo di Expo, si focalizza su una nuova lettura dell'artista milanese. Quella che è la cosa straordinaria dell'arte alimentare è appunto riuscire a conciliare la consumazione del cibo con un prodotto, con il finale, che è un prodotto artistico, per cui si riesce a conciliare arte e cultura con cibo, materia, che poi è l'essenza dell'uomo, quello che è sapere e sapore. Al centro della riflessione dello studioso ci sono soprattutto le uova di Manzoni, simbolo in un certo senso dell'approccio complessivo di Piero all'idea stessa dell'arte. L'uovo viene preso da Manzoni come cosa in seme, tempirica, una realtà assoluta appunto, e divorato dall'artista che entra in comunione con l'arte e con l'assoluto, che è poi quello che era il vero messaggio di Manzoni, cioè aprire al pubblico e allo spettatore la possibilità di consumare l'arte, ma con una partecipazione, una comunione appunto quasi cristianamente parlando, eucaristica. E parlando di eucaristia è impossibile non pensare anche ai lavori di Manzoni con il pane. Il pane che viene chiamato Acrom è semplicemente l'affermazione del pane, cioè vedere il pane in un altro modo come opera d'arte appunto, che è l'obiettivo di Manzoni, che era quello appunto di cambiare il nostro modo di vedere i quadri, l'arte ma anche la vita e viverla diversamente con un approccio più organico, come dire, dove l'entrare nell'opera d'arte significava conquistare un assoluto di per sé. Un assoluto che Guido Pautasso, con passione e intraprendenza intellettuale, riesce a comunicare in modo brillante, proprio perché l'arte contemporanea non va temuta, ma più felicemente divorata.